La signorina Boroschev. Conosco Shoshana. Sa, signor Wikin, c'è una città, un soborgo, chiamato Boroschev. Deve il nome a Shoshana. Lo devi a mio padre. Un pioniere, un sionista, un eroe. E un socialista. Sei il poliziotto, vero? Sì, esatto. Noi stavamo parlando delle bombe. Ma mi ha ammazzato e mi ha scelto. Sono tutti i Briti, ma non lo scelchiamo in un'altare. Tutti a Gerusalemme sono davvero impressionati da ciò che ha ottenuto. Grazie, signore. Jeffrey sarà nominato nuovo capo del Dipartimento di Tel Aviv. Non so niente riguardo a Tel Aviv. Perché ha preferito lui a te? Lei è Avraham Sterna. Allora è membro dell'organizzazione illegale Irgun Zwaileu. È una guerra. Non credo che possa esistere una guerra senza la morte. Sono animali. Chiunque uccide è un traditore. Lei lo capisce che vivendo con la signorina Boroshoff si è messo in una situazione difficile. Non pensi che Sterna ti stia usando per fare il lavoro sporco? No, io non lo penso. Io sto da una parte e loro dall'altra. È normale chiedersi da che parte stai. No, non è giusto. Penso che dovresti saperlo. Stai in alto! Forza! Fermi!